Ciao amore, come stai? Ho ricevuto una telefonata bomba Cioè? Io sono uno dei più grandi registi teatrali in vita mai esistiti Tu mi ami? Sai quando uno dice farei di tutto per questo ruolo? Lo voglio fare questo spettacolo Io ho bisogno di recitare, sono un'attrice Il signor Novembre recita per Romeo Ha un nome questo, signor Novembre? Otto Otto Novembre? Il mese dei morti Prego, signor Novembre, prego, prego Quella sinestra all'Oriente E Giulietta è sola Che pianeta hai trovato questo? Dove essere tutto per te Il tuo fratello, il tuo condottiero Il tuo cuore Chi è Giulietta? La rivoluzione Pronta a dare la vita per un'abbassumata Come l'amore Questo quello che deve fare è un vero artista Spostare l'ottica E guardare il mondo con i propri occhi Perché la tua voce Arriva al cuore Pronto? Che c'è? Mia nonna È morta No, si è ripresa Vabbè, però allora abbina quello che ti succede alla faccia Spostiene Dopo